Si è conclusa con successo domenica alla Fiera di Bergamo l'ottava edizione del Salone del Mobile del Complemento d'Arredo, un evento firmato dall'ente Fiera Promo Berg. Qualità, attenta ed accurata selezione espositiva, soluzioni e concept abitativi all'avanguardia sono stati i tratti salienti di questa edizione della manifestazione, che consolidandosi nel panorama fieristico italiano come un evento di eccellenza e di riferimento ha attirato un pubblico proveniente da diverse province del nord Italia. Con 73 espositori distribuiti su 13.000 m2, suddivisi in 400 stand, la rassegna dedicata a tutto quanto fa casa ha confermato anche quest'anno il suo appeal. Oltre alla ricca parte espositiva, il Salone del Mobile è stato anche teatro di alcuni eventi collaterali di grande interesse. Chiuso il Salone del Mobile, per la Promo Berg è già tempo di pensare ai prossimi due appuntamenti in programma, il primo dal 25 al 26 novembre con il VII Congresso della Polizia Locale, Il secondo dal 30 novembre al primo dicembre è denominato Il Cammino dello Spirito, una manifestazione che è una novità assoluta per Bergamo dedicata al turismo religioso.